14.60 intanto per Elisabeth Tweedle e andiamo a vedere adesso l'esercizio della rumena Sandra Isbasa. Certo Yuri, ripetiamo, dal commento dei mondiali a questo grampì, a questa festa della ginnastica, l'atmosfera, il clima è molto diverso, qui c'è un'area di festa, però la giuria intanto è a livello internazionale e soprattutto l'impegno, gli esercizi sono praticamente gli stessi della competizione ridata. No ma certamente, qui gli atleti vogliono tutti ben figurare, guardate anche la rumena come entra bene al corpo libero, ci sono anche dei premi in denaro per i vincitori, quindi questo giustamente è uno stimolo in più anche a cercare di far bene. È chiaro che questi ginnasti debbano sfruttare anche in quel senso il più possibile dopo un appuntamento con i mondiali, dopo i risultati ottenuti dopo i mondiali. Certamente la forma è leggermente inferiore, ma l'aggressività, la determinazione per affrontare la gara certamente non manca a questi atleti. Maggero squilibrio nella Isbasa che sta per partire per la diagonale acrobatica. Della parte conclusiva sembra un po' stanca la Isbasa. Però conclude abbastanza bene, è un tipo di avvitamento poi di finale certamente. Un esercizio importante, bello, la Isbasa, comincia a diventare un'avversaria... Grazie. Grazie.